allora signori con molto rammarico devo annunciarvi che denis calla ha buttato giù tutti i video di federico virali sulla rete quelli di flavio quelli miei quei due quelli di call of tulu molto divertenti con sell e tutto il resto oggi è un brutto giorno per youtube la censura ha colpito forte io devo dire anche senza motivo perché erano video molto divertenti credo che ci saranno grosse rappresaglie dai pezzi grossi perché un conto sono io un conto è flavio e non lo so per me la mossa poco furba rimanete collegati si comincia bene questo 2023 con il botto